Dottore Adamoli, lei è stato molto chiaro, come del resto la Commissione Grandi Rischi, potrebbe esserci una scossa di terremoto che potrebbe interessare per l'appunto la zona del Terramano e dell'Aquilano in particolare, anche di magnitudo 6-7. A questo punto cosa dovremmo aspettarci se queste scosse ci saranno? Ma chiaramente se si ha un evento sismico con magnitudo superiore a 6, questo può generare una rottura di faglia in superficie, una deformazione del suolo, come è accaduto recentemente ad Amatrice, sul Monte Vettore, con un rigetto praticamente, uno spostamento delle due parti valutabili anche intorno al metro, e questo può comportare la rottura di qualsiasi struttura sia posta in superficie. Nel caso della diga di Gambotosto, siccome questa faglia attiva, la faglia di Monti della Raga, passa proprio in prossimità della diga, potrebbe generare un forte danneggiamento alla diga stessa. In caso di rottura della diga chiaramente si genera un fronte d'onda che si riversa lungo il rio Fugio e quindi poi lungo la vallata del Vomano, della quale bisogna tenere conto perché potrebbe creare danni notevolissimi. Certo, non si vuole fare allarmismo, ma bisogna anche informare la popolazione di un'eventualità, che chiaramente tutti ci auguriamo che non si verifichi mai. Ma ipotizziamo, insomma, cerchiamo di chiarire anche a chi ci ascolta cosa potrebbe accadere nella malaugurata ipotesi che la diga di Gambotosto dovesse per l'appunto rompersi. Quale sarebbe il paese innanzitutto più a rischio? Ma io direi una cosa, innanzitutto va chiarito un aspetto, perché molto volte si dice che la diga è stata costruita per resistere a terremoti anche di elevata magnitudo. Sì, è vero, la diga può resistere anche a terremoti, ma può resistere allo scuotimento del terremoto, alle sollecitazioni, alle accelerazioni orizzontali. Ma in caso di rottura di faglie in superficie nessuna struttura può resistere, diciamo, alla deformazione del suolo. E qui si potrebbe generare appunto questo fronte d'onda lungo la pallata del Vomano. E chiaramente qui bisogna valutare attentamente anche l'altezza dell'onda, la velocità, eccetera, i tempi. Quindi chiaramente il paese più abitato, insomma, è il paese di Montori al Vomano. E Montori al Vomano e quindi la prima cosa che viene da pensare è comunque che potrebbe essere organizzato, così insomma una sorta di preallerta, perché chiaramente i tempi di arrivo dell'onda, insomma, sarebbero sufficienti per porre in sicurezza quella parte del paese a rischio, insomma. Gli abitanti avrebbero, sempre in questa ipotesi, una ventina di minuti circa, no? Per potersi mettere al riparo. Parliamo di Montori al Vomano, ma poi ci sono tanti abitati lungo, per l'appunto, il percorso di questa eventuale onda immensa, che potrebbe chiaramente spazzare tutto. Se lei dovesse dare un consiglio ad un amico che si trova appunto in una situazione del genere, cosa consiglierebbe? Le zone più prossime alla Liga di Gambotosto vanno evidentemente, quelle aree vanno, quegli abitati vanno delocalizzati, no? Eccetera, questo è fuori di dubbio.